Il Presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto nella qualità di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario calabrese ha nominato Gandolfo Miserindino un nuovo commissario straordinario di Azienda Zero che gestisce la razionalizzazione, l'integrazione, l'efficientamento dei servizi sociosanitario e tecnico-amministrativi del servizio regionale. La squadra della sanità calabrese, afferma il Presidente Occhiuto, si rafforza ulteriormente con un'altra eccellenza nazionale. Benvenuti auguri quindi a Gandolfo Miserindino affinché possa continuare lo straordinario lavoro fatto da Giuseppe Profitti per Azienda Zero, dice il Presidente. Le ha reato in ingegneria informatica all'Università degli Studi di Modena in Reggio Emilia, Miserindino da giugno del 2022 dirigente dell'area sanità del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal 2018 inoltre è responsabile servizio ICT, Tecnologie e Strutture Sanitarie della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Guelfar della Regione Emilia-Romagna. Miserindino è stato anche componente della Commissione del Ministero della Salute nella sezione Digitalizzazione in ambito sanitario e componente del Comitato Tecnico Sanitario. Grazie. Grazie.